Ciao ragazzi, lo sentite anche voi il profumo? Una ricetta un po' anni 70 che definirei Old But Gold insieme ai amici di Grana Padano Tagliolini al burro e tartufo in questo cestino di Grana Padano Quindi iniziamo subito tritando il nostro tartufo e sciogliendo del burro in padella, sarà il nostro fondo di cottura Adesso grattugiamo il Grana Padano che andremo a mettere in padella con la carta da forno Una volta ben sciolto lo riporremo al contrario su di una ciotola così che il nostro cestino sarà pronto Mi raccomando conservatelo in un ambiente asciutto Nel frattempo caliamo i nostri tagliolini in acqua bollente salata, li scoliamo in padella, aggiungiamo del burro e mantechiamo per bene Adesso andiamo ad impiattare con un nido nel nostro cestino, finiamo con il nostro fondo di cottura Tartufo a scaglie, che bontà ragazzi, riprovateci, fatemi sapere, ciao! Grazie 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 Grazie